Giovanni Giolitti, uno dei più influenti politici italiani del XX secolo, è noto per le sue riforme che hanno avuto un impatto significativo sulla società italiana. Ecco alcune delle principali riforme attuate durante il suo governo, tutela dei lavoratori, Giolitti ha regolamentato il lavoro notturno e festivo, limitando l'orario di lavoro a un massimo di 10 ore al giorno. Ha vietato il lavoro minorile per i bambini di meno di 12 anni e ha introdotto regole precise per il pagamento di indennità per vecchiai e infortunio. Camere del lavoro, Giolitti ha istituito le Camere del lavoro, che rappresentavano i lavoratori e favorivano il dialogo tra le organizzazioni operaie e contadine. Finanze dello Stato Durante il suo terzo governo, Giolitti ha rivalutato i tassi dei titoli di Stato, portando a un notevole incremento delle risorse nelle casse dello Stato. Queste entrate sono state utilizzate per potenziare la linea ferroviaria nazionalizzata e per la ricostruzione delle città di Reggio Calabria e Messina, colpite dal terremoto e dal maremoto del 1908. Emigrazione all'estero L'emigrazione di italiani, soprattutto dal sud del paese, ha contribuito all'economia interna. Anche se guadagnavano all'estero, molti spedivano i risparmi in patria, contribuendo alla stabilità finanziaria dello Stato. In sintesi, le riforme di Giovanni Giolitti hanno migliorato le condizioni di vita e promosso lo sviluppo economico dell'Italia, nel periodo in cui è stato al potere. Giovanni Giolitti 1842-1928 ha diretto la vita politica dell'Italia, dall'inizio del Novecento allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Durante i suoi governi 190-305,190-609-191-1114, si affermò il diritto inalienabile dei lavoratori ad avere le proprie associazioni sindacali. Ciò permise nel 1906 la nascita della CGL Confederazione Generale del Lavoro, alla quale nel 1910 la borghesia industriale rispose costituendo la Confindustria. Confederazione Italiana dell'Industria. Inoltre, si attuarono importanti riforme, come la conversione delle ferrovie in ferrovie dello Stato, l'industrializzazione del mezzogiorno e l'introduzione del suffragio universale maschile. Tuttavia, le polemiche suscitate dal patto Gentiloni con i cattolici lo indussero alle dimissioni. Nel 1915 Giolitti si pronunciò contro l'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, diventando il simbolo dell'Italia mediocre e meschina. Nel 1920 fu di nuovo a capo del governo, ma non riuscì a legarsi stabilmente a nessuna delle forze politiche dell'epoca. Gli intellettuali avevano opinioni variegate sulle riforme di Giovanni Giolitti. Alcuni di loro apprezzavano i progressi sociali e le politiche di modernizzazione introdotte durante il suo governo, mentre altri erano critici. Ecco alcune prospettive, apprezzamento. Alcuni intellettuali riconoscevano l'importanza delle riforme di Giolitti nel migliorare le condizioni dei lavoratori e promuovere la parità di genere. Ad esempio, la riduzione dell'orario di lavoro e la tutela della maternità furono considerate passi avanti significativi. Critiche, tuttavia, c'erano anche critiche. Alcuni intellettuali meridionali accusarono Giolitti di deviare i capitali pubblici verso il nord, trascurando il sud. Questo alimentò l'opposizione e portò a definirlo sarcasticamente il ministro della malavita in sintesi. Le opinioni degli intellettuali riflettevano le diverse prospettive dell'epoca, ma le riforme di Giolitti rappresentarono comunque un momento di progresso sociale nell'Italia del Novecento. Giolitti ha affrontato alcune controversie durante il suo mandato. Ecco alcuni aspetti discussi. Metodi politici Giolitti è stato criticato per la sua abilità nel gestire le alleanze politiche. Alcuni lo hanno accusato di essere troppo pragmatico e di sacrificare principi ideologici per mantenere il potere. Questione meridionale nonostante le riforme, il divario tra il nord e il sud dell'Italia è rimasto ampio. Alcuni ritengono che Giolitti non abbia fatto abbastanza per affrontare i problemi strutturali del sud corruzione. Durante il suo governo, la corruzione era diffusa. Alcuni sostengono che Giolitti abbia tollerato questa situazione per mantenere la stabilità politica. Politica estera La politica estera di Giolitti è stata oggetto di dibattito. Alcuni lo hanno criticato per la sua gestione della crisi libica e per la sua politica nei confronti. Dell'Austria-Ungheria Appunto in sintesi, le riforme di Giolitti hanno avuto sia sostenitori che critici, e la sua leadership è stata oggetto di dibattito nel panorama politico italiano dell'epoca. Giovanni Giolitti, politico italiano e primo ministro, ha contribuito a migliorare l'istruzione nel paese attraverso alcune riforme. Ecco alcuni dei suoi sforzi. Legge Orlando del 1904 Giolitti ha sostenuto la legge Orlando, che ha introdotto importanti cambiamenti nel sistema scolastico italiano. Questa legge ha promosso l'istruzione obbligatoria e ha cercato di migliorare l'accesso all'istruzione per tutti i cittadini, concessioni alla Chiesa. Durante il suo terzo mandato 1906-1909, Giolitti ha fatto alcune concessioni alla Chiesa cattolica riguardo all'istruzione. Questo ha contribuito a migliorare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa e ha avuto un impatto sul sistema educativo. Punto riforme util nel suo quarto mandato 1911-1914, Giolitti ha continuato a promuovere riforme nell'istruzione. Sebbene non abbia attuato cambiamenti rivoluzionari, ha contribuito a stabilizzare il sistema scolastico. In sintesi, Giolitti ha cercato di migliorare l'istruzione in Italia attraverso riforme legislative e concessioni.